Bene ragazzi io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Raga sfide completate, abbiamo sbloccato questa schermata di caricamento Adesso però ci tocca trovare la lettera T all'interno di quest'ultima Intanto mi devo complimentare perché è una bellissima schermata di caricamento Lanciarazzi e pesci di contrabbando, anche rane e funghetti per il nostro boccaccia Raga si va a zoomare in alto a destra Al centro delle due gru sarà posizionata la lettera che stiamo cercando Il luogo in questione invece è Moli Molesti Ragazzi ci buttiamo subito in mappa e vi faccio vedere dove poterla trovare Moli Molesti si trova in H4 ovvero a dest della mappa In particolare ci dovremmo dirigere proprio quassù Ci siamo quasi ragazzi, ecco le gru che erano all'interno della schermata di caricamento E la nostra lettera T sarà proprio qui Molto facile da trovare raga, io spero comunque di esservi stato ad aiuto Se così fosse mi raccomando lasciate un bel like, condividete il video con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, noi ci becchiamo in una prossima video guida Oppure in un video mattutino, oppure ancora in una live Un saluto da Martex SIA BROTHERS Prendiamo questa T Missione completata Un saluto da Martex Un saluto da Martex Un saluto da Martex